fai l'azione, vincere, completa, tre punti, un calcio buona, si, vai, di nuovo doppia al sinistro, doppia al sinistro sotto e su, buona, si, esce, 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 si prendi tu di nuovo l'iniziativa un calcio, non basta l'azione parte, devi avere tre colpi l'azione, si, così, guardalo sempre stai stabile, sotto, su, buona, esce, 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 lascia, va bene, così, si vai di nuovo, vai di nuovo, uno ci devi mettere il pugno gruppo, doppia al sinistro, vincere, doppia al sinistro che al secondo entra doppia al sinistro, doppia al sinistro, vai sotto e su, un minuto, vai vai, vai, vai lascia le gambe, mi chiede, vai vicendo, si lascialo, 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 non serve, recupera, alza la guardia, la guardia deve stare sempre alla tempia, vincere, quando meno te lo aspetti entro nei pugni vai, quando attacca, attacca sempre di doppio sinistro, vai, doppio sinistro, gancio destro, mawashi basso vai col mawashi basso, quando lui si copre sopra, vai col mawashi sotto, al fianco, di potenza, vai, vai, fallo alzare la guardia, attenzione vai, si, vai, 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 vai si, guardalo, mi chiede, qui, 30 secondi cazzo 30 secondi vai, 30 secondi, vincere, 30 secondi, adesso siete alla pari, devi vincere tu, devi far vedere che sei tu più forte, vai, vai si, guardalo sempre, non ti girare, vai, vai, vai adesso, gli ultimi 30 secondi, quando ti chiamerò i 30 secondi, è tu che devi vincere vai, vai vincere, non ti fermare, si, doppia al sinistro doppia al sinistro, gancio destro, vai, vai, guardalo negli occhi e tira, 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 tira di montante quando si chiude, tira di montante, ultima azione, ultima azione vai vincere, vai, tira di montante quando si chiude in guardia chiusa vai stop mi hai fatto alla grande, bravissimo scendi Michele bravissimo che oggi è stato il giorno naturo bravissimo ci vuole la testa che cosa è successo? è stato continuo grazie 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 a tutti.